ciao a tutti ragazzi riaccomi qua sono mega t che come vedete davanti a me ho una bella scatoletta dell'extreme rate con un kit che secondo me è veramente tanto tanto figo ovviamente poi lo monteremo vedremo la semplicità di montaggio o la difficoltà e poi lo andremo a testare insieme per vedere se effettivamente è valido o no di cosa si tratta di un kit che va montato su un dual shock 4 e va a cambiare di fatto proprio tutta la conformazione e va aggiungere allo stesso tempo 4 tasti aggiuntivi programmabili e in questo caso anche il trigger stop ma andiamo ad aprire la confezione confezione che come vedete è piuttosto importante perché dentro tiene oltre il kit di schede di tastini tiene la scocca della del dual shock 4 scocca che è più voluminosa come vedrete allora io ovviamente ci sono diverse fantasie io in questo caso ho scelto questa un po per insomma un po di malinconia un po di nostalgia dei film horror anni 80 ad ogni modo come vedete è la fantasia con la bella maschera di jason di venerdì 13 pagliacci vari la bambola assassina di chaki insomma è una fantasia che secondo me è veramente veramente carina come vedete sotto c'è anche una sorta di grip anzi se togliamo il sorta questo è un grip gommoso che dovrebbe offrire sicuramente un vantaggio a livello appunto di di comfort di tenuta in mano del controller qua abbiamo i buchini che servono per mettere i tasti quelli aggiuntivi diciamo e qua davanti ci sono invece gli alloggiamenti dei trigger stop andiamo invece a vedere il resto del contenuto della scatoletta magica troviamo gli anelli di scorrimento quelli che appunto andranno qui e faranno sì che il nostro analogico scorrerà molto molto bene vediamo il kit di accessori tasti questi sono i tasti aggiuntivi che vanno messi ai trigger stop e poi ci buttiamo all'interno di schede schedine e quant'altro sì perché ovviamente extreme rate ti offre tutta una serie di schede elettroniche per mettere i tastini aggiungeri al nostro controller volevo precisare veramente una cosa che la fattura di questi oggetti qui secondo me è veramente sopra fine extreme rate secondo me ha veramente si è veramente battuta da sola ha fatto guardate qua che meraviglia switch contro switch ma poi tutto cablato tutto molto bello e fine nel corso del video vi farò vedere per curiosità uno scaf aperto così tanto per far vedere la differenza tra questi kit che magari sono meno blasonati e meno conosciuti della extreme rate però voglio dire con quello che c'è sopra e farvi vedere invece i quattro tasti aggiuntivi di uno scaf come vengono ottenuti con che materiali e anche vediamo magari come sono assemblati inutile dire che per me assolutamente extreme rate è 100 mila volte superiore e lo vedrete comunque con i vostri occhi nella scatoletta poi c'è il kit di accessori come sempre va bene extreme rate ormai ci ha abituato ad avere cacciaviti cacciavitini in casa di ogni tipo e dovrebbe essere tutto il necessario per montare il kit tutto il necessario in realtà non proprio nel senso che per collegare il tasto l3 ed r3 c'è bisogno di una piccola saldatura saldatura che a questo giro voglio tentare di fare perché si ottiene semplicemente spero semplicemente in realtà vedendolo così è veramente semplicissimo tramite questa schedina qua come vedete qua ci sono due puntini 1 e 2 se andranno appoggiare in corrispondenza di saldature già presenti nel dual shock si andrà a mettere un puntino di saldatura e poi basterà collegare questa questa schedina al nostro kit e dovrebbe appunto essere possibile rimappare r3 ed l3 ultimissima cosa dentro la confezione kit di molle mollettine e accessorietti varie rondelle che serviranno ovviamente per completare la nostra installazione direi di riporre quindi la nostra scatoletta e andare insieme ad aprire il nostro ennesimo controller dual shock 4 eccolo qua questo beh ormai lo conosciamo veramente veramente bene un normalissimo dual shock 4 versione 2 quello con la lucina qua sopra che si vede nel touchpad ricordatevi sempre di verificare il modello e la compatibilità a questi kit dell'iccine rate comunque sono sempre dichiarati i modelli compatibili prendiamo quindi in mano il nostro cacciavitino direi quello nero con la punta a croce e andiamo velocemente insieme a disassemblare a smontare completamente il nostro dual shock 4 e quindi Grazie a tutti. 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 Andiamo a prendere un po' di stagno. E andiamo a cercare di mettercelo sopra senza fare danni. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'esterno del controller. E vado a metterlo dentro in questa maniera. Una volta fatto questo. Andiamo a prendere la nostra bella scocca preparata in precedenza e andiamo ad alloggiare semplicemente il tutto. prendo un pezzo di scotch. Lo vado a usare come prolunga del mio pezzetto di circuito. In questo modo vado a portare dentro. In questo modo vado a portare dentro e farlo uscire di lì e poi lo recuperiamo con molta molta più semplicità. Il contattino che direi possiamo subito andare a collegarlo. Salvo poi scoprire che devo montare qualche altro pezzo di scheda e quindi devo scollegarlo. Come non detto ragazzi. Come non detto andiamo di nuovo a togliere il nostro gancetto da qua perché dobbiamo andare a fare un'operazione che ovviamente mi ero scordato. Nel nostro pacchettino, eccolo qua, abbiamo questa schedina di contatti che mi servirà ovviamente poi per andare a montare il tutto. Quindi adesivo verso l'alto, non da questa parte ma ripeto adesivo verso l'alto. Andiamo a mettere dentro questi contattini. Ovviamente lì c'è la scheda che cerca di ribellarsi, viene verso l'alto e quindi spinge un po' questo verso l'alto. C'è un po' da lottare ma poi alla fine sono sicuro che ce l'avremo vinta. Ok, perfetto. Sono riuscito a fissarlo, giro delicatamente la scheda. Ok, perfetto. Sono andato a incastrare esattamente quello lì. A questo punto sì, dopo aver messo nei propri gancettini la scheda e quindi averla bloccata. Ecco, voilà. Questa è bella messa. Adesso sì che posso andare a mettere questo contatto al suo posto. Non si fa altro che spingere. Vedete che c'è una linetta bianca, è la linetta che ti dà il senso di quanto in dentro devi andare a mettere questo spinottino. Adesso andiamo a vedere il passo successivo cosa sarà. Banalmente dovremo andare a prendere il nostro alloggiamento della batteria. Andiamo a mettere anche la sua vitina in modo da stringere il tutto e poi potremo concentrarci sull'altra parte, la parte nera della scocca. Ecco qua la parte di sotto dove come vedete ci vanno i loro tastini e i trigger stop. Vado come prima cosa a mettere i trigger stop, i meccanismi quelli del trigger stop. Dobbiamo metterlo perfetto qua dentro, niente di più semplice. Come vedete c'è il pigulletto, centriamo il buco, questo qua di sotto vedete poiché è il meccanismo che mi va a scegliere corsa breve o corsa lunga del trigger. Stessa cosa facciamo dalla parte destra, lo andiamo a mettere, eccolo qua, adesso andiamo ad aprire il pacchettino con le molle. Ne vado a prendere una a caso, la vado a mettere dentro la sua sede, eccola qua. E a questo punto vado a mettere sopra la rondellina con la vite e vado ad avvitare per stringere il tutto. Guardo a stringere fino a che arrivo in fondo, ecco qua senza forzare troppo, anche perché sennò poi blocco il meccanismo. Ok, facciamo una prova anche di qua a vedere se funziona, direi di sì, uno, due, forse ho stretto un po' più una che l'altra o forse è semplicemente un po' più di resistenza. Andiamo quindi ad individuare il primo che dovrebbe essere esatto il K1, come vedete qua, non so se riuscite a leggerlo. Il K1 in questione è questo, vado un attimo a spostare il trigger stop e lo vado a mettere così esattamente in questa posizione. Vado quindi quindi a prendere simmetricamente l'altro, lo vado a mettere nell'altra posizione anch'esso, eccolo qua. Vado poi a prendere il K2, che non era la gelateria qua dove abito io, ma è un tasto, e vado a metterlo in questa posizione. Idem, stessa cosa, il K4 lo vado a mettere di là. Idem, stessa cosa, il K4 lo vado a mettere. A questo punto ragazzi qua dovremo andare a mettere le nostre schedine elettroniche che Xtreme Rate ci ha preparato. Schedine elettroniche che sono esattamente queste, con i pulsantini che come vedete hanno delle levette belle lunghe, che si vanno a incastrare all'interno dei nostri tasti, in modo che poi schiacciandola, sentite il click, va ad azionare lo switch. Faccio una piccola pausa, se non vi interessa andate oltre, per farvi vedere appunto la differenza tra questi tasti dell'Extreme Rate e quelli invece che sono i tasti di uno SCAF. Tanto blasonato SCAF. Lo SCAF in questione, eccolo qua. Vado a togliere le palettine, lo vado a smontare e vado subito al dunque per non abborbarvi in questo dettaglio. Ok ragazzi, questo è lo SCAF, lo vado a disassemblare un secondo per farvi vedere veramente cosa mettono questi ragazzi lì sotto. La qualità, poi me la direte voi se è migliore questa dell'Extreme Rate o questa dello SCAF. Ci tengo veramente a far vedere questa cosa ragazzi. Andiamo un attimo a svitare insieme la piastrina. Ecco qua il nostro bel lavoro della SCAF. Come vedete non ci sono dei tasti, ma ci sono semplicemente dei contatti sulla scheda. E questi contatti, guardate che meraviglia, delle meraviglie, sono azionati da queste lamelle metalliche. Queste lamelle metalliche che sono leggermente concave e che dopo un po' di utilizzo, infatti questo controller esattamente ha avuto questo problema, si schiacciano diventando di fatto inutilizzabili perché non andranno poi più a schiacciare bene il tasto, o meglio a fare contatto nella nostra scheda. Quindi di fatto, al posto di uno switch, SCAF utilizza queste lamelline da mettere in questi pertusi, che per chi non sapesse i genovesi vuol dire buco. E quindi niente ragazzi, vado a rimontare un attimo il controller del mio amico, però ci tenevo veramente a far vedere la differenza di un azionamento alla Extreme Rate, con schedina, con switch integrati e tutto quanto rispetto all'azionamento SCAF, che per forza di cose meccanicamente è sicuramente più debole. Ricordo veramente queste linguette qua hanno creato tantissimi, tantissimi, tantissimi problemi, ha tanta gente che mi dice non riesco più a schiacciare i tasti sotto, non funzionano, e io ho scoperto, ripeto, che basta una deformazione di questa linguetta e lo SCAF diventa totalmente inutilizzabile. Almeno ne dessero in confezione una decina, una ventina da sostituire, invece no, qua sono dovuto andare a sagomarlo io per ottenere una curvatura decente, ma comunque non è più come l'originale e quindi è quasi di nuovo inutilizzabile. Fatta questa piccola digressione per far vedere la differenza di circuito tra Extreme Rate e SCAF, andiamo invece a montare appunto il nostro triplo circuitino con tastini vari dentro il nostro controller. Niente di più semplice, vabbè, vado a girare il mio cacciavite. Perfetto ragazzi, i nostri circuiti sono ben saldi e ben fissati all'interno del nostro controller. A questo punto non ci resterà che andare a montare le parti, le altre due parti, mettere i collegamenti dove devono essere e a richiudere il tutto. Scusate ragazzi, piccola dimenticanza, ahimè, ho svitato un attimo queste due viti, perché qua dentro nel tasto Remap di fatto ci va una cosa per imbellettarlo e vedere la lucina bella, carina, azzurra. Eccolo qua, questo pezzettino qua, io me l'ero scordato. Abbiate pazienza la prima volta che lo monto, però vedete che poi alla fine effettivamente dà una finitura veramente più carina e quando sarà acceso con luce blu o rossa lampeggiante, insomma, sarà sicuramente meglio. A questo punto ragazzi, cosa avete notato che manca qui nella scocca? Vi do un indizio io. Ebbene sì, la piastrina dove poi andrà alloggiato il LED luminoso. Quindi mettiamo da parte un attimo questo, andiamo a riprendere in mano il pezzo originale della Sony e andiamo a smontare questo piccolo accrocchio qua al volo. A questo punto questo è veramente veramente terminato in quanto a dotazione. Torniamo quindi nella nostra parte centrale del controller. Come vedete qua c'è un adesivo e un segno di piegatura. Andiamo un attimo a piegarlo in corrispondenza di questo segno. Andiamo quindi a staccare l'adesivino. Messo questo, a questo punto direi che la batteria posso anche andarla a ricollegare. Vado a mettere dentro. Perfetto. E a questo punto siamo collegati elettricamente. Direi che niente, in pratica c'è da mettere in questo pezzettino qua l'L3 e l'R3 che vi dicevo, che abbiamo saldato prima. Lo andiamo a mettere. Eccolo qui con un po' di attenzione, tanta bella vista, riusciamo a metterlo dentro. Andiamo a chiudere lo sportellino, quello che fa di fatto tenuta e non lo fa scappare via. E andiamo a montare quella che è l'ultimissima, ultimissima parte, ossia questa su questa. Questi due passaggi ragazzi sicuramente saranno un po' rognosetti perché i cavi, vedete, le bandelle sono molto corte ma niente che con un po' di pazienza non si possa comodamente fare. Allora, muniamoci di pinzette che Xtreme Rate ce le dà, io non le uso mai. E proviamo ad andare a vedere se così riesco a mettere dentro questo fascione. Attenzione, usate le fascette perché così facendo, come vedete, è venuto tutto in maniera molto molto più semplice. Vedete che alle volte uno è pigro, dice ma a me la fascetta non serve a niente, poi invece in realtà serve. Ok ragazzi, a questo punto non ci resta che andare a collegare, questo è un cavetto abbastanza lungo, quindi non dovremo avere grossi problemi. Lo colleghiamo al suo posto, eccolo qui, e voilà, il controller è finito. Andiamo a dare una piegatura là dentro non eccessiva, andiamo ad accoppiare le plastiche, sono veramente emozionato perché, insomma, sì, ne ho fatte modifiche al controller, ma questa è proprio una modificona, è una cosa veramente da zero, bella, bella, mi piace questo lavoretto. Adesso devo cercare di capire, ecco qua, come incastrare il tutto. Ah, ecco, ci sono delle linguette qua che vanno schiacciate, in modo che il controller di fatto poi prenda la sua forma. Ragazzi, guardate qui, ma che bello che è il controller finito. Adesso vado a montare le viti, lo vado ad accendere, guardo se funziona ancora, e poi facciamo le considerazioni del caso e magari vi spiego anche come configurare i vari tasti. Piccola nota sulla chiusura del controller, Extreme Rate ci fornisce anche questo, che è un cacciavitino Torx, e quindi suggerisce ad andare a mettere le proprie viti per chiudere la scocca. Suggerimento che io ovviamente accolgo, prendo in carico, e niente di più semplice, vado. Tra l'altro si stringono anche meglio delle punte a vite, perché si spada meno. La Torx, di fatto, è molto, molto più precisa all'interno della vite. Vado a chiudere tutte le quattro viti e poi torniamo, come promesso, a vedere il funzionamento e le conclusioni finali su questo, guardate che meraviglia, controller. Rieccoci qua ragazzi con il nostro bel controller completamente montato e funzionante in mano. Ebbene sì, sono andato a provarlo. Avevo veramente ansia, perché insomma, quando smonti un controller un po' di ansia, se non sei un professionista, ce l'hai sempre. Ma come avete visto, a parte qualche piccola dimenticanza, qualche piccolo passaggino che mi sono scordato e poi subito dopo ho corretto senza troppa difficoltà, siamo riusciti ad arrivare in fondo al nostro progetto. Il controller, eccolo qua, è veramente carino. A me piace veramente, veramente tanto. Ergonomia sicuramente diversa dal DualShock, sicuramente un'ergonomia a cui ci si dovrà adattare. E vi dico che la posizione dei tasti non è per niente male. Perché vi dico così? Vedete che sono molto distanziati? Ebbene, quando io vado a prendere il mio controller, ho questo dito qui, che è subito sotto un tasto e questo dito qui, che è subito sotto l'altro. Non interferiscono, non sono due tasti vicini come alcuni controller pro che tu veramente non sai come schiacciarli perché sono troppo vicini, interferiscono uno con l'altro. No, qua abbiamo due dita che fanno due funzioni completamente diverse, senza neanche doverle muovere. E questo è veramente un plus. I trigger stop li ho provati e funzionano. Io ho provato su Destiny, la store mi va, lo spero vi va. Anzi, adesso poi andremo un attimo insieme a farvi vedere, magari in fase di settaggio, vi faccio vedere come si settano i tasti eccezionale, veramente. Cioè, mi sento veramente a battantuono. È una figata pazzesca. Adesso mi vado i trigger stop. Guardate, corsa del trigger normale. Vado a, con un semplice gesto, a bloccarlo. Corsa del trigger bloccata. Questo, sinceramente, potrebbe dare qualche problema in quei giochi dove, per esempio, c'è un'accelerazione di un mezzo e quindi necessita tutta la corsa verso il basso. Ma questo lo sappiamo, ragazzi. O c'è un software dedicato che mi dice spalmami il 100% su questa corsa abbreviata. O, nel caso di semplici trigger stop, come in questo caso, dobbiamo mettere in conto che se c'è un gioco che necessita tutta la corsa, non dobbiamo mettere il trigger stop. Il trigger stop, quindi, va nei giochi come, ad esempio, Destiny, spara tutto dove io voglio avere comunque una corsa abbreviata per essere più reattivo e ho verificato che il mio astore, che è il mezzo di locomozione, si muove lo stesso nonostante la corsa ridotta. Quindi, ragazzi, fate bene attenzione a questa cosa. Altrimenti, non c'è problema. Si sbloccano i trigger stop, si arriva fino in fondo ed ecco lì che è risolto il problema. Per quanto riguarda, ragazzi, la configurazione dei tasti, niente di più semplice. Veramente una cosa banalissima, comodissima. Bravissima Extreme Rate che ha tolto quel sensore, ha messo questo tasto fisico, molto più comodo e molto più difficile da premere involontariamente. Basta, quindi, tenerlo premuto per un tot di secondi che vedremo la luce blu diventare blu e poi, a questo punto, si sceglie semplicemente la funzione che si vuole attribuire a quale tasto, a uno di questi tasti. Si tengono premuti contemporaneamente, guardate, ecco qua che li tengo premuti contemporaneamente, lampeggia e a questo punto l'associazione è fatta. In questo momento ho messo la scivolata, quindi il cerchio, su questo tasto. Su questi altri tasti ho messo delle altre funzioni. Andiamo un attimo a vedere in game, dopo essere usciti dalla configurazione per il remapping, teni premuto di nuovo ed ecco lì che esco dalla configurazione. Andiamo un attimo a vedere in game insieme il funzionamento. Eccoci qua ragazzi, ritornati appunto in Destiny. Vi faccio vedere appunto con i trigger stop azionati, quindi corsa breve io avrò un immediato mira e un immediato sparo. Allo stesso modo, se io vado ad attivarmi il mio bella store, vi faccio vedere che su Destiny non avremo il benché minimo problema nel viaggiare appunto con il nostro mezzo. Cosa diversa invece in quei giochi dove potrebbe essere richiesta, come vi dicevo, la corsa totale del trigger per azionare. Tasti sotto invece, io ho di fatto messo in questo tasto qua davanti il salto, che sarebbe la X, e in questo tasto qua la scivolata, ossia io mi accuccio. Vi faccio anche vedere una cosa carina, lo facciamo in diretta, andiamo a attivare il nostro tastino blu, e questa volta gli dico che con questo tasto io voglio attivare l'L3. Vi ricordate quelle saldature che ho fatto? Ebbene, il segnale blu lantiveggiante mi significa che è andato a buon fine, esco dalla modalità map e vado di fatto a mandare in avanti lomino e magia schiacciando coro. Quindi di fatto siamo riusciti a mappare anche L3 ed R3 da poterli attribuire ai nostri tastini sotto. Quindi ragazzi che dire in definitiva di questo kit? Beh, mega ticker lo consiglia, anzi non lo consiglia, lo stra consiglia. Per me è in assoluto il miglior kit Xtreme Rate che sia mai stato fatto, e lo metto veramente alla pari, se non di più, di moltissimi kit esterni. Io non ho un'antipatia per SCAFF, sapete che il Vantage 2 l'ho promossi a pienissimi voti, secondo me è uno dei controller più belli al mondo in questo momento, ma quando parliamo di Impact, Infinity o cose del genere, sinceramente andare a pagare un controller gender 200 euro che con mi sembra una quarantina di euro si può andare a modificare un DS4 e non avere nulla in meno di uno SCAFF, beh, a questo punto io vi consiglio vivamente e tutta la vita Xtreme Rate. È vero, bisogna smontare il controller, bisogna mettere le mani dentro il motore, come dice qualcuno di più famoso di me, ma ad ogni modo io ci sono riuscito e non sono assolutamente un esperto. Ragazzi, per oggi è tutto, il controller lo avete qua davanti, guardate che meraviglia, è veramente bellissimo anche esteticamente, e vi dico che le plastiche sono ottime plastiche, non sono chanfusaglie. Io, guardate, veramente sono colpitissimo da questo kit, mi piace veramente tantissimo, e spero che anche voi ne possiate godere a pieno qualora decideste di prenderlo. Grazie per ogni cosa, come sapete io sono qua, disponibile nei commenti, chiedetemi tutto quello che volete, se avete difficoltà io non mi tiro mai indietro, lo vedete, rispondo veramente a tutti, anzi, uscendo dal video vi dico già una curiosità. Se doveste per caso togliere una mappatura da un tasto, non farete altro che entrare dentro la modalità di remapping, azionare la luce blu e tenere nuovamente premuti i tasti precedentemente assegnati. Avete visto la lucetta rossa lampeggiare, significa che a questo tasto, dove era associato la X nel mio caso, ho tolto di fatto la funzione, premendo questo tasto in game, adesso, ovviamente una volta usciti dalla modalità remapping, non avremo alcun segnale, alcun input. Questo cosa permette? Non vi piace avere mappati tutti e quattro tasti, vi ne piace uno, due, tre, quello che volete? Potete farlo, potete mappare un tasto, due, tre o quattro. Insomma, versatilità massima ragazzi, per un kit veramente eccezionale. Io continuo a dirvi, ve lo consiglio, iscrivetevi al canale, lasciate tanti belle like, andate in descrizione perché lascio sempre tutti i link utili e comunque i link per comprarli in rete e i link dei miei amici youtuber nascenti che vorrei farvi conoscere. Per oggi è veramente tutto, ci sentiamo alla prossima qua ai Megateaker e ciao!